di tipo e il particolare che le differenziano dal nostro giudice ammedeo bottero che ringraziamo per essere qui con noi ed ecco voi terrier neri rossi setter inglese segugio italiano a pelo forte segugio italiano a pelo raso cascon santon joa schnauzzer nano nero argento american cocker shiba inu bassotto standard a pelo corto colpino italiano e con il lancio saverin husky suggerisco gli husky di posizionarsi dai segugi e i gascon cos'è meno abbiamo un ordine di altezza se il nostro giudice dovesse muovere i soggetti bidu 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 Penso allo standard di razza che ne descrive le caratteristiche ideali. Terrier neri russi. Segugi italiano a pelo raso. Siberian Hasky. Schnauzzer nero-argento. American Cocker. Passotto standard a pelo corto, un applauso alle altre coppie che lasciano il ring. Con l'applauso del pubblico, un giro tutti insieme. A cominciare da Terrier nero-russo, Segugi italiano a pelo raso, Siberian Husky, Schnauzzer nano nero-argento, American Cocker, Bassotto standard a pelo corto. Gruppi di allevamento nel pre-ring, grazie. A seguire, razze italiane. No, perché dovete capire che il ring è un po' stretto, no? Per cui, come vedete, non c'è spazio per stare in linea, ma il nostro giudice deve fare i giri per vederli. Facciamo un applauso. Vi posso assicurare che è emozionante muovere i cani in un ring così grande. Come si dice dalle mie parti, in sci l'è tutta un'altra roba, no? Saliamo col nostro giudice sul podio per chiamare al terzo posto lo Schnauzzer nano nero-argento. Al secondo posto, Sabine Husky sale sul gradino più alto del podio di queste migliori coppie, esposizione internazionale canina Cane Club Giulio Colombo, la coppia di Ciorne Terrier, Terrier nero-russo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.